Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi vi sveleremo il segreto del successo esplosivo di DJI Secondo noi DJI ha seguito la filosofia aziendale di Apple in moltissime cose Adesso andremo a vedere quali di queste e perché secondo noi DJI potrebbe essere la Apple dei droni Diciamo che sono tutte idee nostre che però comunque possono avere un fondo di verità Sì, un'opinione da consumatori Partiamo dal logo, grigio su sfondo bianco, sia per DJI che per Apple Il logo è molto semplice, molto minimalista e il bianco è un colore che comunque attira Un'altra cosa che richiama entrambe le aziende, una vicino all'altra, sono le confezioni Se noi prendiamo la confezione di un MacBook Pro e la confrontiamo con quella di un Mavic Pro Le confezioni sono identiche, cioè DJI ha seguito la stessa linea estetica delle confezioni Apple Entrambe le compagnie producono prodotti di altissima qualità E rispetto alla concorrenza hanno un prezzo un po' più elevato Non importandosi di abbassare per vendere di più Ma mantenere un livello di qualità altissimo e un servizio per i clienti equamente alto Sì, entrambi con i loro diretti concorrenti hanno sempre quei 200-300 euro in più per un prodotto simile Esatto Terra a terra se ne sbattono di quello che fanno gli altri e loro lo vogliono fare bene Inoltre è presente una garanzia a pagamento extra che per Apple si chiamerà Apple Care Mentre per DJI, DJI Care Refresh Sì, entrambi hanno scelto di avere una garanzia aggiuntiva a pagamento Per fornire una copertura maggiore dei loro prodotti per i loro clienti Entrambi i marchi nei loro prodotti hanno una svalutazione sull'usato che è davvero bassa Cioè un prodotto nuovo Apple o DJI e un prodotto usato sia per Apple che DJI Ha una svalutazione minima rispetto ad altri marchi blasonati Quindi anche in questa cosa si assomigliano tantissimo Esatto Continuano ad avere valore nel tempo Entrambi questi marchi hanno deciso di avere degli store fisici loro personali dove vendono solamente i loro prodotti DJI ha non diciamo copiato ma ha preso ispirazione dalle linee di design degli store Apple Con lunghi tavoloni, ambienti comunque molto bianchi, molto chiari E su questi tavoloni saranno esposti poi tutti i vari prodotti Un ambiente che evidentemente da il successo di Apple funziona Sì, DJI si è ispirato anche alla disposizione all'interno degli store dei loro prodotti E' molto simile a quella Apple Se anche secondo voi DJI è la Apple dei droni Lasciateci un commento, un pollice in su e iscrivetevi al canale Noi ci vediamo alla prossima Ciao 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 Ciao